Adesso proviamo a vedere di capirci qualche cosa. Tu trovi complicato il concetto di quanto per sé c'è che l'elettromagnetica è fatta di palline? Vale che vada, proviamo a vedere perché non ci si capisce niente. Nel mondo non ci sono né metri, né litri, né secondi. Quando noi misuriamo in metri, litri e secondi stiamo facendo una proiezione del nostro schema mentale sulla realtà. Secondo te ce lo fanno usare l'oculare del telescopio per la telecamera? Non c'è strada il telescopio. Capisce bene la difficoltà di dover fare una misura di questo genere. C'è l'acqua dentro quel che deve fare in penombra. Servirebbe una versione quantistica della relatività di Einstein. Gli specchi di Virgo sotto questi venti fortissimi che sono arrivati si sposta di un centomillesimo delle dimensioni di un protone. Mettili questa. Non la voglio la tua pietà. Non la voglio la pietà, mi servivo Nicola. Cosa possiamo immaginare di più devastante che due grossi bumi neri in quale scienza? Nicola, ma non pensi che quando l'umanità si sarà estinta, la scienza sarà stato l'atto più nobile che ci lasceremo dietro? Questa domanda richiede una risposta precisa. Tu chiaro? No. Grazie a tutti.